Musica Beni per un valore di 270.000 euro circa sono stati sequestrati dai fidanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro in esecuzione di un provvedimento emerso dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Regina. L'attività rappresenta il completamento della vasta operazione denominata Due Mari, nell'ambito della quale veniva sgominata un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In tale contesto, su specifica delega dell'indagine della DDA Regina, sono stati effettuati complessi ed articolati accertamenti economico-patrimoniali nei confronti di alcuni dei soggetti indagati, che hanno permesso di prevenire, su disposizione del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sequestro di beni immobili, rapporti bancari, quote societarie e di un'attività economica per un valore stimato in circa 270.000 euro. Colpiti dal provvedimento di sequestro sono due dei soggetti indagati, già raggiunti il 30 giugno scorso dall'ordinanza di custodia cautelare, titolari a vario titolo di beni immobili, immobili, attività economiche e quote societarie, risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Nello specifico, l'esecuzione del suddetto provvedimento ha portato il sequestro di una ditta individuale ad abano laziale, quattro quote di proprietà di terreni ad ardore, due quote societarie riferite ad una società di platì e ad un'altra di velletri, un imbobile a bovalino, un autocarro e diversi rapporti bancari, per un valore complessivo stimato pari ai 270.000 euro circa.